Benvenuti in questa lezione dedicata alla risposta ad un vostro commento. Dunque, Rossana mi scrive Un piccolo dubbio, come si solfeggia la croma con il doppio punto? O meglio, come si suddividono le singole note? Allora, il punto, ripassiamolo, è un segno convenzionale che si pone accanto a una nota o a una pausa e può essere singolo, doppio o triplo. Esso aumenta la nota o la pausa di metà del suo valore. Quindi, ad esempio, se mettiamo il punto accanto ad una minima, essa che vale due quarti, con il punto che vale la sua metà, quindi un quarto, raggiungerà il valore dei tre quarti. Ora, il dubbio arriva sulla presenza del doppio punto, quindi di due punti uno di seguito all'altro. In realtà, la cosa è molto più semplice di quella che sembra. Sì, perché il secondo punto è sempre un punto e come tale aumenta ciò che lo precede di metà del suo valore. Quindi, se il primo punto vale un quarto, allora il secondo punto vale un ottavo, perché la metà di una semiminima è una croma, quindi un ottavo. Questo significa che la minima con due punti vale un totale di tre quarti più un ottavo. Se dovessimo, ad esempio, solfeggiare una battuta in quattro quarti con un fa minima con due punti e un re croma, si solfeggerebbe nella modalità del solfeggio con suddivisione nel seguente modo. Ovviamente ho specificato nel solfeggio con suddivisione perché poi, più avanti, in apposite lezioni, andremo a vedere tanti esempi invece nel solfeggio senza suddivisione, che è l'importante obiettivo da raggiungere. Quindi, fa la minima, il primo punto, il secondo punto, il re croma, quindi la realizzazione del doppio punto a livello dei movimenti del braccio del solfeggio dipende sempre da due fattori principalmente. Il primo è qual è l'unità di tempo del solfeggio in questione e il secondo a quale nota o pausa questi due punti sono posti a fianco. Prendiamo in considerazione questa situazione. Dunque, la semiminima prende un tempo intero, quindi una divisione. Poi, il primo punto, una suddivisione e il secondo punto, la metà della suddivisione seguente, che nel caso di questo esempio viene completata con il re semicroma. Vediamo come si solfeggia. Vi ricordo che io solfeggio a specchio rispetto a voi, quindi potete tranquillamente svolgere gli stessi movimenti che faccio io, come se stesse davanti allo specchio. Dunque, la battuta si svolge così. DO-RE Quindi, la semiminima è qui. DO-O Il primo punto è qui. O Il secondo punto e il re semicroma sono sopra, ORRE, cioè sono sulla seconda parte dell'ultima divisione, quindi del secondo movimento sulla seconda parte. Un pochino più complicato è il seguente caso. Qui, il punto doppio è collocato accanto a una croma, ed essendo in una battuta da due quarti, significa che la croma con il doppio punto e la biscroma seguente devono essere svolte nel loro insieme, tutte all'interno di una sola divisione, in quanto il loro valore complessivo è pari all'unità di tempo di questa misura. Quindi, la croma è nella prima suddivisione del secondo tempo. Il primo punto occupa la metà della seconda suddivisione, sempre del secondo tempo, mentre nella seconda metà della seconda suddivisione, ovviamente ancora sempre del secondo tempo, dovremmo inserire il secondo punto e la biscroma. Una cosa importante è far durare la prima O come il successivo ORRE, in quanto hanno lo stesso valore, perché il primo O ha una durata di una semicroma e ORRE hanno entrambi valore di biscroma che insieme occupano, appunto, sempre lo spazio di una semicroma. Quindi, a parte il RE che è sulla prima divisione, il RE semiminima, abbiamo il DO in basso sulla prima suddivisione di questa seconda divisione, cioè sul secondo tempo, Sopra abbiamo prima il primo punto, e poi il secondo punto e il RE biscroma. Quindi, ricordo bene una cosa importante, che sull'ultima suddivisione di questa battuta, quindi sulla quarta suddivisione, cioè sulla metà del secondo tempo, abbiamo una sorta di divisione ideale in due di questa ultima suddivisione, dove in una parte, come abbiamo detto prima, c'è il primo punto, nell'altra parte c'è il secondo punto e la biscroma. Soffeggiamolo lentamente, tutta, ovviamente, la battuta, tutto l'esempio. RE, DO, RE. Ovviamente, adesso ho spezzato un po' la voce per chiarire bene dove si trovano i vari punti. È meglio, poi, solfeggiare in modo più fluido, vocalmente più, diciamo, scorrevole, così che sia più simile alla reale, diciamo, enunciazione ritmica. Vi consiglio di solfeggiare questi esempi e anche altri simili, anche senza suddivisione, soprattutto senza suddivisione, perché è l'obiettivo da raggiungere, come dicevamo prima. E magari, prima, se vi è d'aiuto, spezzando la voce, quindi intendo per spezzare la voce, marcare tutto, e poi in maniera più fluida. I movimenti che utilizzerò ora per il solfeggio senza suddivisione li approfondirò, ovviamente, in un'apposita lezione. Solfeggerò ora sempre i tre esempi, sempre senza suddivisione, rendendo però l'enunciazione vocale più fluida. Di esempi, volendo, se ne possono fare molti altri, anche con pause o in altre misure, ma il meccanismo rimane sempre lo stesso. Allenatevi quindi a solfeggiare il doppio punto con e senza suddivisione, prima lentamente e poi, man mano, sempre in modo più scorrevole. Siamo giunti al termine di questa lezione e, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a mettere un like se la lezione vi è stata utile. A presto! Grazie!